Ci sarà tempo sicuramente fino alla prossima primavera per digerire il nuovo piano della ZTL del Comune di Arezzo. Lo slittamento dei nuovi orari, due ore e mezzo in più al giorno, è confermato da Franco Dringoli, assessore al traffico del Comune di Arezzo, che dalle pagine del quotidiano La Nazione conferma che il superpiano non partirà ad inizio 2014. Solo una questione tecnica assicura per completare il lavoro di organizzazione della circolazione della sosta, ma l'indirizzo resta lo stesso. Già la notizia che i permessi della ZTL erano stati prorogati al 28 febbraio faceva pensare allo spostamento nel tempo della temuta rivoluzione, ma intanto Dringoli afferma che volevamo evitare l'assalto agli sportelli. La sensazione reale è che a preoccupare di più l'amministrazione comunale sia la vera e propria rivolta dei commercianti aretini, che non hanno ancora ben digerito questo cospicuo allargamento, soprattutto in termini di orari, della zona a traffico limitato. È probabile dunque che tutto slitti addirittura fino a giugno, di sicuro fino alla prossima primavera, periodo maggiormente gradito dagli operatori che a quel punto avranno superato le festività ed i saldi di fine stagione.